Sicuramente sono origini antichissime, millenarie, infatti questo strumento che in italiano viene chiamato zampogna deriva questo nome da sinfonia, suonare insieme, era conosciuto dai romani ma probabilmente anche dai popoli italici. Questo spiega un po' perché probabilmente l'etimo scupine utilizzato in Abruzzo possa avere una derivazione dal greco italiota in cui askos vuol dire appunto otre, aggiungere un otre a degli strumenti a fiato rappresenta un'innovazione tecnologica ma consente anche un'esecuzione di varietà di brani, di repertorio che poi hanno avuto grandissimo successo tant'è vero che questo strumento è noto in tutto il bacino del Mediterraneo con nomi propri così come in Abruzzo e anche fino al nord Europa con piccole differenze tecniche ma in generale con una stessa logica dal punto di vista musicologico. Era lo strumento che accompagnava tutte le attività tradizionali soprattutto durante l'estate quando veniva utilizzato alle feste che consentivano per esempio al gruppo sociale di riunirsi intorno al ballo, intorno al canto, intorno alla musica e di fare i primi incontri con l'altro sesso e quindi programmare quello che era un evento molto importante e necessario nel mondo tradizionale cioè il matrimonio che garantisse una discendenza importante quindi è uno strumento che va rinserito in questo contesto tradizionale nel contesto del ciclo agrario bisogna ridimensionare l'utilizzo o meglio ampliare l'utilizzo di questo strumento non limitarsi alle novene ma d'altra parte evitare anche la contaminazione con generi che derivano appunto da ciò che viene per esempio dai media, dal web e anche dalla cultura egemone che non è la cultura popolare è uno strumento molto versatile, sta avendo un grande successo in generale al momento si tende ad evolvere, cioè è possibile evolvere tecnicamente lo strumento ma prima bisogna creare uno zoccolo duro, forte in cui lo strumento riacquisti quelle che erano le sue funzioni primitive le sue funzioni sociali importantissime, ripeto è lo strumento principe la dubbottina Abruzzo l'ha completamente sostituito ma nel praticamente nel 1900 prima in realtà tutta la musica abruzzese veniva suonata con la scupine o con i cordofoni ovviamente e anche con gli diofoni cioè che davano la base ritmica e questo è importante e deve essere recuperato perché è un patrimonio di cultura orale molto molto importante che rischia purtroppo di essere cancellato perché adesso viene interpretato lo strumento al di fuori della cultura tradizionale ciò si può fare però naturalmente è più importante preservare la parte storica anzi recuperarla questo richiede uno sforzo enorme, l'Accademia dei Transumanti che qui a Ortona oggi è riunita che io seguo da moltissimi anni anche con molte pubblicazioni su questo argomento anche pubblicazioni sperimentali per esempio provare a ballare il repertorio coreutico cioè i balli abruzzesi che adesso vengono tutti eseguiti a dubbotte o addirittura a fisarmonica che è uno strumento ancora più colto che consente ancora un'evoluzione culturale però in senso musicale quindi di chi sa scrivere la musica, di chi fa il conservatorio nel mondo dei cori che hanno un repertorio sostanzialmente colto, composto quindi che fa più riferimento alla musica melodica di tradizione napoletana che non al canto di tradizione orale abruzzese questo ultimo canto di tradizione orale abruzzese, canto polivocalico per esempio i canti di lavoro ma ce n'erano centinaia e centinaia per tutte le funzioni della vita poteva essere accompagnato anche dalla zampogna quando la zampogna c'era e questo sarebbe un bellissimo esperimento, noi l'abbiamo fatto con i balli abbiamo notato che i balli più moderni, quelli per esempio con i ritmi di tre quarti che derivano da un'importazione recente dall'Europa centrale non si possono ballare bene a zampogna mentre invece il gruppo dei balli circolari antichi come l'isciana, le saltarelle e anche le spallate funzionano molto molto bene con la zampogna quindi questo tipo di studio sperimentale dà poi informazioni su quello che deve essere un'ipotesi da sviluppare col tempo e con lo studio è un impegno che ormai risale forse a 30 anni fa quando abbiamo iniziato a renderci conto che lo stress e i obblighi della vita moderna non si conciliavano con i nostri sentimenti quindi abbiamo cominciato a cercare di recuperare le emozioni, i simboli, la ritualità del ciclo agrario il ciclo agrario è una collana fatta di grani che non possono essere separati l'uno dall'altro seguono l'andamento delle stagioni, seguono i santi, seguono i bisogni del popolo contadino e all'interno di questo ciclo agrario con una catena di feste che inizia al Sant'Antonio prosegue poi con il Carnevale, poi con i riti quaresimali, la Pasqua poi c'è la grande festa del Maio, la festa del Trionfo della Primavera la festa di San Giovanni che santifica i rapporti tra gli esseri umani e così fino di nuovo poi a Natale con una serie infinita quasi di feste più o meno importanti che però erano diffuse in tutto l'Abruzzo, anzi in un'area molto più ampia le ritroviamo quasi in tutta Italia in realtà e anche in molti paesi d'Europa soprattutto quelli dell'Europa orientale che hanno conservato di più le tradizioni percorrendo questo ciclo calendariale di feste che è fatto ripeto di simboli, di credenze ma anche ovviamente di canti e di balli si può rigenerare dentro di noi un sentimento che non è anacronistico perché appartiene a tutti gli esseri umani di tutte le epoche e di tutte le razze e di tutti i paesi del mondo si può rigenerare questo senso delle tradizioni le tradizioni vere sono morte perché erano legate a un sistema economico che non esiste più a un sistema di relazioni tra le persone che non esiste più quindi in primo luogo bisogna recuperare tutto il ciclo insieme a questo il ciclo della vita il ciclo della vita porta a un messaggio molto importante la nascita, la crescita, la morte quindi nelle tradizioni vanno introdotti anche questi sentimenti tristi i sentimenti di cancellazione, di abbandono, di fatica anche il senso della morte quando siamo in grado di fare questo siamo in grado anche di arrivare a quella coesione sociale o di gruppo il nostro gruppo si chiama Compagnia Tradizioni Teatine e collabora con un altro gruppo che si chiama il Ramaglietto delle Contrade di Chieti ma anche di paesi anche del Pescarese e diciamo anche più della provincia di Chieti perché ripeto le tradizioni sono le stesse e fatto questo in realtà si può rigenerare dentro di noi il senso delle tradizioni rivivere quelle evozioni per ultimo l'ultima cosa è il divertimento il divertimento inteso come esibizione, come ostentazione come rappresentazione delle tradizioni non serve a niente è un fenomeno deteriore puramente commerciale quindi dobbiamo affrontare prima tutta la tristezza, la fatica, il peso e l'impegno che richiede la tradizione e poi possiamo permetterci di divertirci e soprattutto le tradizioni non si vendono e non si comprano Grazie mille Grazie mille Grazie mille